Ciao a tutti ragazzi, sono Ara e benvenuti a questo nuovo unboxing Andiamo subito a vedere cosa c'è in questo pacco Che più che pacco è praticamente una pusta ragazzi Questo di sicuro non è il modo corretto di incartare le cose quando vengono spedite Soprattutto con corriere Che sono notoriamente più rudi delle poste Quindi vabbè andiamo a sgustare Oggi non abbiamo bisogno di fendi pacchi Perché servono solo le mani Ed ecco qui che abbiamo Guarda qua, lo dedico a te Daily Mellow Abbiamo Sanji della linea SH Figure Arts di One Piece Un action figure molto ma molto carina Vedete qui tutte le cose che può fare Ha molte parti intercambiabili si possono intravedere Davvero molto ma molto figa Questa linea è molto sottovalutata secondo me Lo ripeto ancora una volta E il prezzo è davvero molto ma molto basso di queste figure Questa era quella che sarebbe dovuta arrivare prima di Rufy Ma c'è stata una sorpresa ed è arrivata prima Rufy Comunque praticamente adesso mi manca solo Nami di quella serie Ma non so se la prenderò sinceramente perché non mi piace granché Invece questa è molto ma molto ben fatta secondo me Comunque ritorando al pacco ragazzi Questo sicuramente non è il modo corretto di incartare una spedizione Perché questo polistirolo di sicuro non impedisce al pacco di rovinarsi Per fortuna è arrivato integro A parte qui vedete che è rovinato ma credo sia stato già così dall'inizio Perché questa cosa e questa roba ripeto non protegge un bel niente Comunque male per l'incarto Per fortuna gli è andata bene al venditore Altrimenti mi avrebbe sentito Comunque ragazzi Questo è l'unboxing di oggi Dell'emello guardalo bene Se non ce l'hai ti consiglio vivamente di comprarla Un fan come te non può perdersi una figure del genere Soprattutto perché costa davvero davvero poco Comunque ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa figure Fatemi sapere se ce l'avete Se avete intenzione di comprarla E lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao da Ara e da Sanji E ciao dell'emello Ciao